In questo momento, l'Oceano Pacifico sta registrando un'intensa attività ciclonica, con la formazione di diversi cicloni tropicali. Attualmente, l'uragano One, classificato come categoria 1, sta interessando l'area delle Hawaii con 20 fino a 121 km orari e una pressione minima di 991 etto pascal. L'uragano One rappresenta un serio rischio per le Hawaii, in particolare per la Big Island. Le forti raffiche di vento, le intense precipitazioni e le onde di tempesta, storm surge, associate a questo fenomeno meteorologico possono causare gravi danni alle aree costiere, agli edifici e alle infrastrutture. Secondo gli esperti dell'urricane center, One potrebbe raggiungere la sua massima intensità tra oggi e lunedì. La zona più a rischio sembra essere la parte orientale dell'arcipelago delle Hawaii, soprattutto l'area di Big Island. Leggi l'articolo completo sul nostro sito web retemeteoamatori.it